Preparare tutto l'occorrente sul piano di lavoro. Facciale filtrante, copricapo, occhiale o visiera, tre paia di guanti monouso, camice monouso impermeabile, due garze, gel idroalcolico per le mani, disinfettante a base di cloro, un contenitore pulito e un contenitore per rifiuti sanitari a rischio infettivo. Togliere anelli, bracciali e orologi. Legare i capelli con elastico. Eseguire igiene mani. Palmo contro palmo intrecciando le dita fra loro, palmo sopra dorso intrecciando le dita fra loro, frizionare i pollici, frizionare le dita di entrambe le mani nei palmi, dorso delle dita contro il palmo opposto. A questo punto indossare il copricapo, aprire il facciale filtrante, posizionarlo sul viso portando l'elastico inferiore sulla nuca e quello superiore dietro alla testa, senza incrociare gli elastici. Modellare lo stringinaso, eseguire la prova di tenuta appoggiando le mani sul facciale e inspirare. Indossare gli occhiali o la visiera. Eseguire l'igiene delle mani. indossare il primo paio di guanti. indossare il camice monouso impermeabile fissandolo al collo e alla vita. Ed infine indossare il secondo paio di guanti coprendo i polsini del camice. indossare iluldici del camice. indossare il camice potri indossare il cuore di guanti copona Rimuovere i guanti senza toccare i guanti sottostanti. Rimuovere il camice strappando i lacci in vita e la chiusura posteriore. Allontanare il camice piano piano dal collo e dalle spalle sfilandolo dall'interno, arrotolarlo dall'interno e smaltirlo nel contenitore o sacco per rifiuti infetti. Procedere all'igiene delle mani guantate. Rimuovere gli occhiali o la visiera afferrandoli dall'elastico posteriore o comunque dalla zona più posteriore portandoli in avanti e appoggiarli su un ripiano. Inclinare leggermente la testa in avanti, afferrare posteriormente l'elastico inferiore del filtrante insieme alla cuffia, quindi il superiore, sollevare gli elastici sopra la testa, allontanare il filtrante dal volto e smaltirlo. Rimuovere il secondo paio di guanti senza contaminare la cute delle mani. Eseguire l'igiene delle mani. Sanificare gli occhiali o la visiera con le garze imbevute di cloro. Posare il dispositivo in un contenitore. A presto! A presto! Grazie a tutti.